Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale, bentornati ragazzi in un nuovo vlog in macchina dopo tempi lunghissimi, tempi in memory che non ci ritiamo qua in macchina Sono più che sicuro che adesso cadrà il telefono perchè sono una strada di merda, con curve di merda, con persone di merda, con gente in guida di merda insomma E' tutto una fattuta merda Questo ragazzi, vi sto facendo questo piccolo vlog perchè essenzialmente in questi giorni sul canale non stiamo facendo un schiazzo Quindi vi sto facendo questo vlog perchè volevamo dirvi un po' di cose Prima cosa ragazzi, innanzitutto come avete visto nell'ultimo vlog semplice, inutile, stupido che vi ho fatto, scherzoso soprattutto Ad aprile come sapete ci sarà il Romics e come ogni anno noi ci saremo A Romics ragazzi registrerò, non so, ah soprattutto non so ancora con chi andrà a Romics, sicuramente con Dana Ma non so se se Stersi ci sarà, non so se Destiny ci sarà, non lo so, non sappiamo ancora niente Non sappiamo quando ci andiamo, nel senso non sappiamo in quale data ci andremo Sappiamo solamente che ci andremo e che faremo un esperimento sociale Poi ragazzi, un'altra cosa importantissima Sto pensando di comprarmi Dragon Ball Xenoverse o Xenoverse come cazzo vi pare E molto probabilmente ci farò una serie, mini serie Una mini serie perchè ragazzi è un gioco che vale davvero la pena giocarlo, vale davvero la pena comprarlo Signora, lei è scema? Vuole morire sotto la mia macchina? Tutta sta fila proprio sotto la mia macchina, lei deve morire Comunque, vi stavo dicendo, vale la pena, vale assolutamente la pena comprarlo Soprattutto vale assolutamente la pena farci una serie Perchè ragazzi, da quello che sto vedendo, non c'è ancora mai giocato Però mi sto seguendo alcuni youtubers Ok, scusate, mi ero un attimo trippato Sto seguendo alcuni youtubers che stanno facendo i gameplay su Dragon Ball E mi sta piacendo Ci mancava pure il coder al davanti Già c'è fila Più c'è sta pure il coder al che se fermo ogni tre minuti Stiamo freschi Ciao tu uomo Poi ragazzuoli, la terza cosa che volevo dirvi Era che non ho abbandonato la serie su Minecraft Non ho abbandonato, scusate, Rotto Commander Non ho abbandonato nessuna serie Semplicemente c'ho un pochetto di cose da fare Che c'è stata la municipale qua Che vanno tutti piano Vabbè affanculo va Non era vero, non c'era la municipale Comunque stavo dicendo Non ho abbandonato nessuna serie Ragazzi, semplicemente non ho tempo di registrarle Soprattutto non ho tempo di editarle Tra oggi e domani Ero tipo un attimo sparito all'inquadratura Tra oggi e domani dovrei registrare Minecraft Perché ragazzi Voi non l'avete visto Però dopo l'ultimo video Ho continuato a giocare un po' da solo Ho continuato a scavare la caverna Che c'era il dungeon Ho continuato a scavare a caso Sontà il dungeon Ne ho tradito i diamanti Con i diamanti Mi sono fatto il piccone E col piccone Ci ho preso l'ossidiana E con l'ossidiana Ovviamente ci ho fatto il portale Per il nether E il sottomondo Li mortaci De te Quindi Il prossimo appuntamento Su Minecraft Sopravvivere Into the wild Sarà Viaggio al centro del nether Comunque ragazzuoli Sono quasi arrivato a casa Quindi penso che il vlog Gassimachinas Può finire qua Lo sto registrando Venerdì 27 Questo lo vedrete domani Sabato 28 Penso o in mattinata O alle 3 Se non riesco a registrare Nessun altro video Lasciate un like Un commento Ci vediamo Alla prossima Bella